Lavoriamo su una delle due fotografie, o questo o quell'altra. Ma ci sono le foto dei Minecraft. E poi sarebbe questa. Che comunque rende in tutti e due i format, nel senso che al di là del taglio delle cose la fotografia esce fuori sempre. Questa è stampata normale. Così è stampata normale. Sì, fa un po' la stampante, per far tutto i colori. Non lo so, io farei così, lavorerei su queste due idee. Perché questa comunque non la abbandonerei, magari tirando su qua e mettendo a posto la fotografia. Sono due idee diverse, ci si può lavorare. Ma io, secondo me, abbandonerei questo che è il circo. Questa qua non si vede, non si vede, non si vede. Ciao. 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 E' fra me? Come i AFP pensi. Che potrà ritare. E' domani. Quando tu noi? Se parta, port tambien. E' domani? Ora Ci conviene prendere due sensori diversi. E' un po' una balena l'Ambraio di Nelly con il forno. Decisamente. E' un po' una balena l'Ambraio di Nelly con il forno. E' un po' una balena l'Ambraio di Nelly con il forno. E' un po' una balena l'Ambraio di Nelly con il forno. E' un po' una balena l'Ambraio di Nelly con il forno. E' un po' una balena l'Ambraio di Nelly con il forno. E' un po' una balena l'Ambraio di Nelly. E' un po' una balena l'Ambraio di Nelly con il forno.